Siamo al nostro salotto letterario, sempre libri interessanti da proporre, oggi è la volta di Carmelo Cossa, Toccare il cielo, questo è il libro e questo è Carmelo Cossa in carne ed ossa. Ciao, buongiorno, grazie per la sua presenza. Grazie per avermi ospitato. Ma figurati, è un piacere. Robine Edizioni, un libro presentato due domeniche fa al villaggio del libro a Frassinetto Po, questa è la copertina del libro, un noir al femminile? Sì, è un noir con una delle protagoniste al femminile e con un commissario femminile con una squadra di polizia quasi tutta al femminile. Cioè un libro pieno di donne? È un libro pieno di donne, esatto. Raccontaci un po' la trama di questo libro senza svelarci ovviamente il finale. La trama inizia con un fatto abbastanza cruento che è il rapimento della ragazza appunto, di una ragazza che avviene in uno dei più bei parchi di Torino. Ah perché il libro è torinese, è ambientato a Torino? Il libro è ambientato a Torino, questo rapimento avviene nel parco del Valentino e poi questa ragazza viene chiusa in un furgone stuprata in una stradina che porta su in collina. Quindi il libro inizia con un evento violento? Violento, abbastanza violento. Durante la notte la polizia arresta un ragazzo che esce di corsa da questa stradina dove si è consumato lo stupro e viene arrestato, viene portato in questura come uno dei presunti colpevoli. E' il maggiore indiziato. Il maggiore indiziato perché viene sorpreso in quella stradina. Il mattino dopo il commissario Emilio Racca appunto si reca a casa di questo ragazzo che viveva con il nonno in collina dove si è proprio consumato lo stupro per interrogare il nonno e per sapere dell'uccidazione su questo Matteo. Peccato che il nonno lo trova riverso in giardino col cranio fracassato. Ah però c'è una ragazza violentata e il nonno ucciso? C'è qualcosa di sospetto? C'è qualcosa di sospetto. Alla fine si aprono due indagini parallele e distanti dove alla fine si scopre che in qualche maniera i malavitosi dello stupro e i malavitosi dell'omicidio in qualche maniera erano collegati. Un bel intreccio. Senti ma come ti è venuto? C'è un vieto fine? Non ce lo sveli? No, no, no. Anche perché non è necessario né i gialli né i noir il lieto fine. Me lo leggo e poi ti dico e ti darò il mio giudizio. Come ti è venuta l'idea di scrivere questo noir? Non è la tua prima performance letteraria? Avevi già scritto qualcos'altro? Io avevo già pubblicato un libro di poesie. Noir? No. Più delicate. Poesie. E poi sulla scia dell'entusiasmo ho pubblicato il primo romanzo che era una sorta di giallo autobiografico, giallo introspettivo. E qui invece sei passato a qualcosa di un po' più ruvido. Un tuo collega, un giornalista, più di un addetto ai lavori mi hanno sfidato dicendomi che è facile scrivere di se stessi, perché è difficile sbagliare scrivere di se stessi. Sì, non devi inventare meno granché. Non devi inventare nulla, non devi collegare nulla, non rischi di perdere la trama della narrazione. E io ho sfidato alcune persone scrivendo questo libro che è tutta fantasia. anche se poi, rileggendolo io stesso, ho scoperto che per quanta fantasia uno ci possa mettere riesce comunque a metterci qualcosa di se stesso, perché il tratto distintivo secondo me di chi scrive comunque rimane pressoché uguale, simile se non uguale. Senti, ma come mai? Proprio una storia noir, un genere che ti affascina? È un genere che mi affascina ed è un genere che purtroppo di questi eventi ne succedono tutti i giorni. Nel senso che si può prendere spunto anche dalla cronaca dei giornali di tutti i giorni, no? Purtroppo sì, questo voleva essere anche una riflessione sui giovani sul mondo di oggi che tanti giovani rincorrono il successo ad ogni costo. In questo libro ci sono alcuni esempi, ci sono alcuni giovani che poi rischiano di perdersi, ma poi fortunatamente alcuni di essi si ritrovano, riflettendo appunto in una centrale di polizia però. Senti Carmelo, ma tu cosa fai nella vita oltre a scrivere libri? Io faccio l'imprenditore. Ah, ecco, quindi oltre a fare lo scrittore anche un lavoro serio, diciamo così. Serio, sì, perché anche lo scrivere lo trovo serio, ma non ho mai pensato di pubblicare. Ho sempre scritto per passione. Per passione, e dovrebbe essere così. Ma riesci a trovare il tempo per scrivere? Sì, l'ho sempre trovato, me lo sono sempre cercato, me lo sono ritagliato perché comunque il mio tempo libero mi piace leggere e mi piace scrivere, prendere nota di ciò che succede durante la giornata o di uno spunto che sento per televisione o che vedo su un quotidiano piuttosto che su un settimanale. Io intanto stavo dando un'occhiata, perché sono parecchie pagine, quasi 400, anzi no, sono 420 pagine di libro, eccolo qua, poi dicono gli e-books. Io preferisco i libri così, perché i libri vanno fatti così di carta, con il profumo della carta, poi ben venga come alternativa anche il libro elettronico se qualcuno lo preferisce. Tra l'altro l'editore mi ha comunicato appena la settimana scorsa che è in uscita l'e-book, che io non amo molto l'e-book, perché secondo me un libro deve, per prendere davvero, deve toccare tutti e cinque i sensi. Ma dai, ma poi è bello anche perché lo metti poi nello scaffale della tua libreria personale, credo che sia bello, però è anche vero che di questi tempi, con i prezzi dell'editoria, è giusto che gli editori si guardino attorno e trovino anche delle formule alternative per vendere i libri, come gli e-books. Come gli e-books, sì, certo. Stai lavorando già a qualcos'altro? Il libro è uscito da poco? Il libro è uscito a marzo, alla fine di marzo. Oh beh, insomma, c'ha già un po' di vita. C'ha già un po' di vita, anche se l'abbiamo presentato poco, perché ho avuto un piccolo problema, piccolo si fa per dire, di salute. Che vedo che è risolto. Grazie a Dio, è risolto. Stiamo iniziando adesso a promuovere e a presentare. Va bene, va bene, ma perché i libri hanno sempre una vita lunga, perché possono godere di presentazioni anche nell'arco di diversi mesi e diversi anni. Soprattutto se l'argomento è interessante, se il libro è bello, perché secondo me i libri si dividono tra quelli che piacciono o non piacciono, a seconda dei gusti. Ti dicevo, stai scrivendo qualcos'altro? Sì, c'è già... Cioè, bolle qualcosa in pentola? Bolle qualcosa in pentola, che ho mollato lì, perché mi sto dedicando all'ultimo evento che mi è successo, appunto quello di un duro intervento alla testa, e il neurochirurgo si fece promettere, dopo aver letto i miei due romanzi, che avrei scritto un romanzo su ciò che mi è recapitato. Ah sì? Sì. Quindi ti stai dedicando a quello? E mi sto dedicando a quello. Quindi stai scrivendo qualcosa che ti ha toccato molto, molto da visita? Che mi ha toccato molto, in collaborazione con il neurochirurgo, perché non sarei capace di raccontare ciò che... Ah, perché ci sono particolari tecnici? Sì, perché ciò che succedeva in sala operatoria, io non potrei mai descriverlo, perché non me lo ricordo. Senti, la ragazza della foto, della copertina, perché la scelta di questa foto? Perché mi è piaciuta, perché... Molto di classe, elegante. È di classe, perché la ragazza, la protagonista è una ragazza di classe. Ho scelto il bianco e il nero perché la ragazza ha visto la sua vita cambiare, e da bianca, da luminosa, dalla giovinezza si è sentita perduta e ha visto il nero. Quindi lei potrebbe essere Giulia, la protagonista del libro? Una delle protagoniste del libro? Lei, sì, lei potrebbe essere... Lei è Giulia, che li guarda nel vuoto, pensierosa e riflette sul suo imminente futuro. È un noir, ma introspettivo come piacciono a te, no? Sì, perché è un noir, è un giallo, ma c'è molto altro, c'è molto introspezione anche lì, perché alla fine tutti i personaggi... Perché è un romanzo che non ha un protagonista, ma è un romanzo corale, diciamo. Con tanti protagonisti. E alla fine tutti riflettono e tutti pensano. Poiché mi piacciono le sorprese, invito l'amico Maurizio Gelatti di Contesti, che è dietro le quinte, a portarmi in diretta il pacchetto. Eh? Lo facciamo? Perché io ovviamente sono facilmente corruttibile quando si tratta... Grazie, grazie mille Maurizio. Quando si tratta di libri, io sono facilmente corruttibile. Guardate un po' che bella busta. Allora, di solito Maurizio Gelatti mi porta sempre un po' di libri. Vediamo un po' cosa mi ha portato, eh? La sorpresa. Vediamo un po' cosa mi ha portato, vediamo un po' i libri ci sono. Vediamo un pochino, li vediamo insieme, eh? Così facciamo una bella carrellata di libri che potete trovare ad esempio al villaggio del libro di Frassinetto. Poi presto anche nella nuova filiale di Limone Piemonte. Qui vediamo la sfida di Obama con Runei, la coda della cometa. Fallimenti e successi della presidenza Obama. E poi Iognon, Iognon dai fondali del Mare Nostrum, lo Iogno credo, eh? Sui misteri insondabili dell'Italia. Vediamo, eh? Poi ti chiedo anche che libri leggi oltre che scrivere. Qui c'è la famosa serie dei luoghi del delitto dell'editore Robin, un editore romano molto quotato che si trova anche nelle librerie piemontesi. Mary Lester e l'assassino pieno di errore, ambientato in Bretagna. Non è una città per avvocati a Pavia, Mauro San Giorgi. E a Palermo, un altro luogo del delitto, Il Lamento del Cornuto di Luigi Colaianni. Bello questo titolo. Sapete che poi è una questione di onore, no? Al sud. Massimiliano Tozzi, il suonatore di Triangolo. Era Continuar. Trilogia di Torino. Ecco, questa mi mancava. I luoghi del delitto. Tre storie di Leone di Fausto. Quanto mi sembra veramente la borsa di Natale questa. E abbiamo ancora i libri saggi Robin Edizioni. Chi se ne frega di Andrea Saolini. La storia di una tribute band dei Kiss, credo. Le tribute band sono quei gruppi musicali che suonano le stesse canzoni dei gruppi più famosi. E Pierluigi De Pascalis, il manoscritto che si credeva un best seller, guida pratica per aspiranti scrittori. Ecco, tu non hai avuto bisogno della guida pratica per aspiranti scrittori. Scrittore, lo sei diventato con la farina del tuo sacco. Sì, perché sono abbastanza portato a scrivere, a prendere appunti. E poi a un certo punto ho deciso che i miei appunti... Potevano finalmente diventare un libro grazie a Robin Edizioni. Carmelo, rivediamo, per finire la nostra chiacchierata, la copertina e dacci un buon motivo per comprare questo tuo libro. In versione cartacea oppure appena c'è, in versione e-book. Dovrebbe uscire... Dai, un buon motivo per leggere questo tuo libro. Per metterlo in testa alla lista dei libri che ho sul comodino. Tanto per iniziare è già difficile trovare un elettricista, perché io sostanzialmente sono un elettricista che poi è diventato strada facendo uno scrittore. Cioè, elettricista, imprenditore e scrittore? Esatto. Ne hai fatta di strada e ne hai fatta anche di luce. Così, un elettricista che scrive un giallo potrebbe già essere interessante scoprire cosa scrive. E poi mi piacerebbe Toccare il cielo. Che cosa vuol dire il titolo, Toccare il cielo? Toccare il cielo... Con un dito? Sì, perché secondo me l'espressione Toccare il cielo è qualcosa di bello, è qualcosa di... È una meta da raggiungere, è una meta raggiungibile, fra l'altro se uno perseguisce i sogni. Eh sì, è la meta che tu l'hai raggiunta con questo bel libro, Carmelo Cossa, Toccare il cielo. Lo metto subito, subito sul comodino di fianco alla Bajour, perché leggo soprattutto nelle ore notturne o dell'alba. Grazie a Carmelo Cossa, grazie naturalmente a Maurizio Gelati che ha permesso questa nostra intervista. Magari ci vediamo quando io ho letto il libro e ti faccio la recensione e quando il nuovo libro sarà pronto. Volentieri. Grazie Carmelo, buona lettura a te, buona scrittura, buona lettura a tutti i nostri telespettatori. Ci ritroviamo domani, gente che parla, con la rassegna stampa dalle 8 e poi fino alle 11 e mezza, dove? Su Quarta Rete, perché questa è la nostra televisione.